Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui con un nuovo video sul mio canale, il canale di Warfra. Allora, come vedete siamo qui oggi con Black Desert Online, il nuovo MMORPG che si trova adesso in Open Beta in Corea. Allora, il gioco è sviluppato da Pearl Abyss e sarà distribuito dalla Dome sia in Corea che in Europa, quindi il gioco è adesso in Open Beta coreana e noi speriamo di vederlo in Europa il più presto possibile. Alcune voci dicono che arriverà nel 2016, però ovviamente se almeno, almeno, la Open Beta europea arrivasse verso fine estate, agosto, settembre, sarebbe già un bel passo avanti. Allora, questo è un primo video che grazie a un mio amico, lui mi fa i video e io faccio la registrazione audio e ragazzi riusciamo a fare un po' così per vedere quel che riusciamo a fare, dai. Qui ha presentato un po' i personaggi, la scelta del personaggio, vediamo un po', ci sono diverse classi, poi ne parleremo più avanti con calma e vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti.